Ciao a tutti ragazzi, sono tornato qui a giocare a League of Legends insieme con, come sempre qui con Digifer98 e questa volta giochiamo 3 contro 3, selva demoniaca, questa volta io gioco Lux, un supporto che io però questa volta non so come mago e ci devo prendere a mano, quindi la mano, quindi vi dico che è da tantissimo tempo che non uso Lux, non ho fatto nessuna prova e quindi faccio un gioco contro Darius, Victor e Lee Sin, io ho paura di Victor, più di Darius, non lo so, niente, ecco qua c'è, partita subito la partita, partita subito la partita, ok iniziamo subito, qui c'è Chin Chin Chao, non so come si chiama, e Talon, allora iniziamo subito sbloccando la prigione luminosa, comprandoci un anello di Doran, è un vantaggio del mago ladro, anzi mi compro anche una pozione già che ci sono, di mana, ecco qua, è tutto mana, ok ci siamo, è già schivato il primo colpo, guardali, no c'è, ma è una cosa epica, 3 contro 1, giustamente, già, date quanta vita mi ha tolto, è una cosa, non laggo, eh, non laggo tanto, laggo probabilmente di FPS perché registro 30 FPS, guarda 30 FPS, quindi mi se ne mangia 30, ecco, quando è 60 normalmente, oh, attenzione, no, per poco, ecco, e fa fuori me, no, può essere anche se non mi salvo, no, non mi salvo, ma no, che roba, arrivo, mantieni, mantieni, Svegliato, sì, fuori, fuori uno, andiamo, 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 andiamo su, eccolo, c'è Darius, 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 dai, facciamolo fuori, facciamolo fuori, facciamolo fuori, facciamolo fuori, sì, e abbiamo fatto fuori Darius, Darius, oh, mio Dio, che culo, non ho visto, 3, doppie uccisione, ho fatto fuori 2, 3, carne di cina, no, non ho fatto carne di cina, 3 uccisioni di fila, ragazzi, abbiamo fatto una bella serie, molto, bel lavoro, un bel lavoro, e infatti, ecco, 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 uno, vai, bloccalo, sì, madonna, ragazzi, come va, come va, come va, come va, good job a tutti, good job a tutti, Vai lì, vai lì, vai lì, vai lì, oh, bravo, tu sì che mi piaci Eh, c'è sto tizio qua, te lo dobbiamo fare Oh no, sei andato, oh no, poi Darius Poniamo su, oh, stiamo avanzando, stiamo avanzando, bene Possiamo farcela Attenzione, che è sta storia, guardate lì Nooo Vai, 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 non mi fanno usare la R, non mi fanno usare, usiamo la R Vai, grande, grande, grande Carneficina di Tano Stiamo andando alla perfezione, stiamo andando a bestia, a bestia Nooo, no, no Chi è che volevi fare fuori, tu? Cosa, chi è che volevi fare fuori? Non ho capito Non ho capito 4-1, non lo vedo che c'è il programma di registrazione che mi offusca la parte di sopra comunque 4 kill, 4 kill Ragazzi, ragazzi, ragazzi Dov'è andato? Eh, vai, vai Talon Vai Talon Eeeh, no, vabbè, questo era mio Non è KS, dai Aspetta e spera Uh, guardalo, guardalo, l'ho convinto, proprio fiero 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 Eh? Eh, fiero, un po' fiero Uh, non ho, non ho la Q pronta, sei salvato Giù era morto, eh 6 kill Mazza, ragazzi, ho con l'UX E chissà da quanto tempo è che non la uso Ma è bella partita Come, come Ti sei permesso, tu? Eh? Eh, eh, vabbè, questo è stato KS Oh, cazzo Non mi fai fuori, lo vuoi capire? Che non ce la fai mai a farmi fuori Mai Ce l'avete provato? Non si sa quante volte Ok Tu, che cavolo vuole ripare? Oddio, raga, è benissimo la sua partita Oddio, Dio Cioè, l'UX trionfa Accendiamo Accendiamo L'accendiamo Ecco, Victor Oh, l'ha colpito Oh No Non ci posso credere Se si va Ah, ho usato Sono abilitate Sinceramente Ok, siamo a 2200 300 più 174 Vuoi capire? Non mi farai mai fuori Oh, sto godendo Ho fatto KS No, no, sì Sì Ria Good job Good job Guarda, guarda Guarda Rimani positivo Sì, sono a KS Sì, sono a KS Le abilità Le abilità Non c'ho le abilità Non posso usare la R ora Dai, venimi addosso Vieni, venimi addosso Dai Aspetta Porca Non c'è la R ora Ma nonne Non si ha fatto Come noi Minchia Spiegami adesso Che Era inutile Vabbò Ma Ma È un troller un trollone